Lorenzo Pastorelli tra i più giovani in campo, anche tu un ex Cesena che hai fatto incontrare tanti ex compagni? È stato bello perché avevamo un gran gruppo, un bellissimo rapporto, fa un effetto anche strano rivederli però con una maglia diversa, non più con lo stesso colore della maglia, è stato bello perché abbiamo creato qualcosa di unico e fa effetto rivederli, è stato veramente bello. Una nuova avventura appunto con il Galletto, peccato per questo 2-0, un Forlì forse troppo rinunciatario che praticamente non è quasi riuscito a tirare in porta a parte un'occasione nel primo tempo. È normale, abbiamo fatto dei bei carichi di lavoro, siamo appena usciti da un ritiro quindi penso sia anche abbastanza normale, un po' con le gambe imballati, ma la cosa principale come ci diceva il mister è quella, soprattutto in queste partite, contro squadre magari di una categoria superiore, di lottare su ogni pallone, di cercare di non mollare mai, di non demordere. Sì, 2-0 però alla fine abbiamo sempre cercato di dar tutto e ci pensiamo subito alle prossime uscite che comunque sono lo stesso e importanti.